oh 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 it's wonderful wonderful one ah Alex Real on that one on this one per prima piccola cosa dunque quando iniziate a suonare questa musica meravigliosa don't believe him you don't know what you're saying no but I'm sure a certain point mi sono chiesto ma in Europa ci sono dei musicisti che sono a jazz ad alto livello e come andai in un negozio di Roma che non esiste più purtroppo che si chiamano i messaggeri musicali e chiesi mi dico ma musicisti in Europa che sono jazz e comprei un disco molto bello registrato in un locale meraviglioso a Copenhagen che si chiama Montmartre e in questo disco c'era questo signore che si chiama Alex Real che è una leggenda vivente del jazz europeo dell'eservenimento mondiale Alex Real grazie 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 grazie